Nella trentasettesima edizione del premio a Mireia Gorizia, Donato, è un appuntamento un po' particolare perché cerca sempre di avvicinare pubblico che non è magari del settore, ma proprio il pubblico e l'utenza finale. Cioè questo rapporto fra premio e città di Gorizia con ospiti veramente tanto importanti che difficilmente nei nostri territori vediamo. Ma diciamo che lo scopo della nostra associazione è proprio la divulgazione della cultura cinematografica. La Sessione Amidei nasce con questo scopo e quindi il premio è in qualche modo l'esplicitazione di questo nostro scopo. Quindi noi vogliamo parlare di cinema ma parlarne in modo comprensibile per avvicinare al pubblico la scrittura cinematografica che è l'oggetto principale delle nostre attenzioni, cioè le sceneggiature. E non solo, attraverso le sezioni del premio anche, non semplicemente il cinema che passa nelle sale nell'ultimo periodo, ma attraverso delle retrospettive mirate e attraverso la presentazione di testi di critica o testi di storia del cinema, e avvicinare il pubblico agli studi di cultura cinematografica. Una sezione proprio dedicata a questo quest'anno, proprio con la precisa mission. Pagine di cinema. Infatti è stata un'iniziativa di quest'anno, se abbiamo pensato, perché avevamo molta carne al fuoco. E abbiamo pensato di mettere assieme la presentazione dei libri e anche l'edizione dei libri, perché noi non solo presentiamo libri di altri ma editiamo dei testi. E quest'anno mi piace ricordare che noi pubblichiamo una biografia di Carlo Battisti, che è il protagonista di Umberto D., il grande capolavoro di Vittorio De Sica, che è legato al nostro territorio perché è stato per un periodo dal 1919 al 1925 direttore della biblioteca Isontina e quindi fondatore della biblioteca Isontina di recente acquisizione, vuol dire, al territorio italiano, perché ci muovevamo nel primo dopoguerra e quindi quando questi territori sono stati annessi all'Italia. però Pagine di Cinema vuole avvicinare il pubblico alla scrittura sul cinema. Noi presentiamo un testo sul cinema di Vichy, quindi la Francia soggetta all'occupazione, ma anche, mi piace ricordare, che presentiamo un testo di recentissima pubblicazione sui cortometraggi girati dai guffi, gruppi universitari fascisti. Si tratta di corti che sono sia creativi, nel senso che sono dei piccoli film, dei corti veri e propri, sia dei documentari e in qualche modo testimoniano di un'epoca. Quello che vale la pena di dire è che sono scritti e girati con un linguaggio molto moderno per l'epoca, che è anticipatorio quasi del neorealismo di qualche anno dopo, ed sono girati da personaggi come Mario Monicelli, come Alberto Latuada, che poi troveranno piena consacrazione come cineasti nel dopoguerra. Hai qua tua figlia che scalpita, come è vivere e trasmettere ai figli la cultura del cinema? Perché il cinema non è solo magari il classico film del cine panettone di Natale. Io credo che sia importante che i bambini si avvicinino al cinema, è un cinema adatto a loro ovviamente, e io spero che respirando l'atmosfera di questo nostro premio, anche lei possa appassionarsi come me alla cultura cinema, al cinema in generale, poi anche agli studi sul cinema e quindi ad un maggiore approfondimento. Ma credo sia sufficiente avvicinarsi al cinema e guardare, perché come dire, il film è sguardo, per essere affascinati. Io spero, come dire, in qualche modo di passare questa mia passione, come dire, anche a mia figlia. Senti, papà è bravo. Sì.